questa è una serata speciale in questo ristorante alle porte di napoli tra poche ore si esibirà lui cena spettacolo assieme al cantante neomelodico è attesa anche sua moglie tina colombo lui arriva sempre accompagnato dalla moglie sicuramente la moglie è una famiglia con un figlio insieme di bianco famiglio manettorio rispettorio ah in questo senso rispettato e quindi dici che a lei che gli ha dato la spinta anche e finalmente la moglie tina colombo non si è presentata ad accompagnare toni c'è invece l'uomo che vedete alle sue spalle i due da qualche tempo sono inseparabili si chiama giorgio mascitelli ed è il figlio di un boss di camorra alla fine del concerto provo ad avvicinare colombo e mascitelli per fargli qualche domanda non c'è problema colombo senta lei ha detto che la camorra una merda lei sa che il padre del suo manager era secondo gli inquirenti un esponente del clan camorristico arrestato nel 2017 mascitelli anche da parte sua posso chiedere almeno questa cosa come fa fate ridere cioè cosa ci fa il figlio di un boss della camorra a fare l'agenda di toni colombo mascitelli secondo lei perché la casa editrice toni colombo è stata colpita con sette colpi di pistola giusto un anno fa mi dica no ma infatti io sto facendo pure le domande a lei a me invece a canale a canale 5 cioè semplicemente detto che era indagato per quanto riguarda quel flash mob problem ma ancora manca una risposta cioè cosa ci fa voglio dire col figlio di occa notto giorgio mascitelli però le domande io posso farla anche a lei ma cittadino lei scusi come ng production ma però sono su di lei queste indagini senta toni colombo come mai secondo lei sua moglie si faceva le foto con le pistole in casa per trovare le risposte devo avvicinarmi a napoli tra le vie del quartiere di secondigliano senta scusi via tagliamonte non c'era la casa discografica di toni colombo se la ricorda c'era lì dove un anno fa sparavano sette colpi di pistola no 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 bene invece questa domanda luci sono accese e lassù anche una telecamera quella è la casa discografica di toni colombo sì ma quella c'era la palazzina di boccello il pianto mafioso il padre ah il padre da rispoli era un uomo di camorra sì 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 signora mi scusi lei abita qua? lei c'era quel giorno in cui hanno sparato sette colpi contro la vetrina? no non c'era perché signora? mi hanno fatto fastidio in che senso hanno fastidio? mi hanno fatto fastidio perché ci stanno incendendo e cambia voglia a chi è che non ci vuole? eh alcuni mi hanno po' vuoi crudo riproviamo allora a parlare con uno degli uomini più vicini a toni colombo questo è il profilo instagram di giorgio mascitelli vedete queste sono le foto assieme a toni colombo e tra i suoi father ovviamente c'è anche Tina Colombo ovvero la moglie di toni colombo io sono un figlio di un boss su di me magari hanno fatto mille d'agito ma io mi sento politissimo io non sto accusando lei io però sto tracciando un quadro in cui toni colombo è sposato assieme a Tina Rispoli figlia di Boxer ex vedova di Gattiano Marino il suo manager è il figlio di Ocanotto un boss della camorra cioè un mondo che quantomeno confina con quello camorristico siamo d'accordo su questo? no, cioè non può essere d'accordo perché secondo lei esattamente un anno fa sparano sette colpi sulla vetrina della casa discografica di toni colombo io non posso andare a domandare a toni perché hanno sparato nella sua casa discografica beh se fosse un artista che io voglio contrattualizzare vorrei sapere perché gli sparano contro la vetrina o no? io non ho messo il contratto con toni io sono un accompagnatore lei l'ha vista l'inchiesta di fanpage Mascitelli? non tutte cazzate non tutte cazzate grazie a tutti